Stai rovistando nel cassetto del nonno per vedere se trovi un quarzo funzionante e non sai come fare? Non c'è problema, con il prova quarzi, uno strumento portatile alimentato da pilla 9 volt, potrai fare un test molto veloce. Questo strumento contiene dentro un oscillatore che permette di far lavorare il quarzo semplicemente appoggiandolo sul connettore. Se il quarzo è funzionante si accenderà un led blu a indicare appunto che il quarzo sta lavorando. Proviamo con un quarzo da 5 MHz, i tre pin a sinistra sono sul terminale sinistro e tre pin a destra al terminale destro, anche questo è funzionante. Quarzo da 7 MHz e 37, anche questo è funzionante. Lo strumento rileva quarzi in fondamentale fino alla frequenza di 10 MHz e in ovvero...